Eccomi qua Ma scusa Eccomi Purtroppo questi numerosi impegni di lavoro Allora spieghiamo bene questa cosa Diciamo che Perché un canale funzioni Bisogna avere contenuto spesso Per avere contenuto spesso bisogna Uno avere il contenuto Due il tempo di montarlo Poi perché la gente lo guardi Questo contenuto deve essere anche interessante O corto Quindi noi abbiamo contenuto Forse non è troppo interessante Sicuramente non abbiamo tempo di montarlo Ma possiamo giocare sul corto Quindi l'idea è diventata Pubblichiamo abbastanza spesso Cioè almeno una volta a settimana Un video corto In modo che tenga Adesso spieghiamo i trucchi Al pubblico Ma il pubblico deve essere Cosciente dei trucchi Che cerchiamo di usare Cerchiamo di dargli Una caramella Almeno ogni settimana Di modo che rimanga In qualche modo Agganciato al canale Nonostante Le cose più lunghe Che pubblichiamo Le pubblichiamo Una volta ogni tanto Perché il tempo Di fare cose più lunghe Non c'è Ok E quindi la strategia Per catturare Diciamo così L'ospettatore È quella di produrre qualcosa Di corto Simpatico Almeno una volta a settimana E poi ogni tanto Quando riusciamo Produciamo qualcosa di più lungo E si spera più Boh Si spera che sia anche interessante Su questo tema Avevo pensato A delle cose da dire E me le erano anche scritte Su un foglietto Per essere Diciamo Logico E conseguente Cosa che normalmente Non riesco ad essere Quando parlo E La sfortuna vuole Che questo foglio L'ho lasciato al lavoro Perché non pensavo Come te Mister Foglietti Quindi Non pensavo Ci saremmo visti Questo fin di settimana Che mi è riuscito al lavoro E Avevo pensato appunto Di Sviscerare questo tema Con te Perché da solo Sono assolutamente incapace Di fare un discorso Sensato Ecco Quindi pensavo Di usarti come mezzo Per Esprimere questo concetto Allora Parlando di questo canale Ehm Io sono abbastanza certo Che è un fallimento Il problema è Definire Cos'è un fallimento O cosa sarà un fallimento E' chiaro che non avremo mai Centomila Eh Persone Che guarderanno Questo Video No Ma Come in tutte le cose Bisogna mettersi Mettersi degli obiettivi Per poter definire Se una cosa È stata un fallimento O no Corretto Sì La maniera in cui Ci stiamo allenando Appunto Funziona Con Degli obiettivi Che sappiamo Di poter raggiungere Diciamo Non degli obiettivi semplici Non banali In cui c'è uno sforzo Sai che è uno sforzo Magari considerevole Ma che sai Sai che Puoi essere in grado Di assumere Se Ti impegni Ad impegnarti Certi del suo fallimento Qualunque sia l'obiettivo Tu vuoi parlare Di Come Vuoi parlare in generale Degli obiettivi O vuoi insegnare La gente Come porsi gli obiettivi Direi la seconda Cioè Non demoralizzare Non Non pensate Al fatto Che quello che state facendo Sarà un fallimento Perché è possibile Che lo sia E devi assumerlo A priori No Tipo Questo canale Sappiamo che lo sarà Qualunque obiettivo Ci poniamo Anzi Secondo me Sta già superando Alcune delle aspettative Che io avevo Di questo canale Poniamoci gli obiettivi Invece Sulla Tua corsa La mia corsa O la corsa Di chi Per esempio Ci guarda Mettetevi degli obiettivi Non banali Perché se no Non avrete Della soddisfazione Nel raggiungerli E non eccessivi Come Voglio 100.000 follower E vivere Di un canale Del cazzo Che faccio con gli amici Quelli sono obiettivi Raggiungibili Quindi mettiamo Degli obiettivi sensati Non so se al canale Ha senso Metterne gli obiettivi Dubito Perché il mare È davvero grande Ma Imparate a mettere Degli obiettivi sensati Nei vostri Questa è una cosa Che secondo me Già E questo Non c'è da nessuna parte Cioè Non c'è nessuno Che ti insegna Perché Innanzitutto Dipende Da te Dipende Da Come Ti affacci Al problema Alla fine Perché ci sono Delle persone Che Sanno Che sono Delle macchinette Sanno benissimo Gestirsi Calcolare i limiti Perché alla fine Sta sempre Nella capacità Di capire Fino a che punto Tu puoi spingerti E ci sono Delle persone A cui riesce Naturalmente Questa cosa Invece ci sono Delle altre persone Che hanno bisogno Di un parere Di qualcun altro Perché non lo capiscono E a volte Perché hanno poca Self Coscienza Di loro stesse E a volte Invece perché Sono Magari Non sono Non hanno Non padroneggiano L'argomento Nel senso Tu Ad esempio Tu quando hai iniziato A correre Gli obiettivi Te li ho posti Io se vuoi Quelli Il 45 Il 52 Perché sapevo Dato la mia esperienza E dato il tuo grado Di salute E dato il tuo grado Che avresti potuto Farlo Non te ne sei Autoposti tu Io sono convinto No perché Io non avevo Assolutamente idea Sì Quindi la prima cosa Da fare È Cercare Di Di capire Cosa fanno Gli altri Per mettersi Un obiettivo Perché Ci sono Dei campioni Ci sono tanti Molto bravi Però poi c'è Il mare dove stanno tutti E il mare dove stanno tutti Fanno più o meno Le stesse cose Quindi Il primo consiglio è Non pensare Né di essere Delle merde Né di essere Frum Cioè di guardare Che tipo di gare Ci sono in giro E Le gare che ci sono in giro Sono accessibili Dopo qualche mese Di allenamento Se no altrimenti Non avrebbero partecipanti Tutto qui Quindi abbiate il coraggio Di mettervi in gioco E partecipare Alle gare Che ci sono in giro Sia di Di atletica Sia di bici Sia di quello che volete Esatto Ma guarda che bella puntata Che stiamo facendo Sì Mi sembrava interessante Poter parlare di Obiettivi E di fallimento Anche perché il fallimento Viene Cioè dovrebbe essere Una cosa naturale Una cosa Che si è in grado Di accettare E sopportare Sì sì Non una cosa Di cui hai paura E una cosa Che ti limita Nel fare Altre cose Perché per la paura Di fallire Poi non fai niente Dici no ma poi Non so Nel lavoro Cambiare lavoro Non so Cercare altre opportunità C'è molta gente Che non le cerca Perché ha paura Di sentirsi dire no Ma la risposta no È il 99.9% Delle risposte Che riceverai Per statistica Più che per incapacità Quindi Vorrei essere positivo E dire Mettetevi in gioco Abbiate un po' di Il problema è avere Delle spalle Sufficientemente larghe Per accettare Questi 99.9% Di no Che riceverete Che capisco Che è dura Perché mi mettono L'insieme Che hai Che hai delineato Tu prima C'è un sacco di gente Che non è cosciente Delle sue capacità Cioè C'è una gente Che è super cosciente Conscia Sa quali sono i suoi limiti E da tutto Però io credo Che la stragrande maggioranza Della gente Della popolazione Non abbia idea Cosa che sempre riguarda bici E quindi chissà E quindi chissà se riusciamo Da oggi Velocemente Nelle prossime puntate Ad aprire Una 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 branchia Del pesce Ti ero di più Ti ero di più Una delle cose Che gira Per la mia mente Allora A me piace molto di più La mountain bike E la strada Perché L'ho fatta Da bimbo Quindi Mi sento più A mio agio Adesso sto iniziando Da bici La strada E devo imparare tutto Non so nulla Quindi pian piano Imparerò Però Una delle cose Che mi Mi ha Catturato molto L'attenzione È il duathlon Trail running E mountain bike Quindi ti dirò Che per il 2019 Mi piacerebbe molto Cioè Una volta finita La scommessa a luglio Mi piacerebbe Che iniziessimo A pensare E già Trail running C'è tutta Una 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 nuova teoria Una Nuove allenamenti Da seguire Perché l'allenamento Di corsa in montagna È molto difficile Molto difficile Perché Ti fa subito salire Le pulsazioni Proprio come La mountain bike Devi imparare A correre in discesa Devi imparare A Pensare Dove mettere il piede Perché Quando corri normalmente Non pensi A cosa stai pestando Perché è tutto piano Invece Trailing Le discese Sono faticose Quanto la salita Perché devi pensare Un mucchio E infatti La mountain bike Versus strada È proprio così Nella mountain bike Nessun pezzo È scontato Perché basta Una radice Di un albero Per saltare E esplodere Come la dinamite E buono Allora Facciamo così Chiudiamo la puntata Salutiamo Tutti i nostri Follower Ascoltateci Perché nel futuro Ci sono tante cose Nel pentolone Diciamo che Dopo luglio Non è che andremo In pensione Ci saranno Tante altre novità Sì Beh ma Faremo puntate Prima di luglio Certamente Amici ascoltatori Tanti saluti Buonanotte Buonanotte Eccoci qua Aspetta che fermo Anch'io